Il tanto atteso nuovo decreto con le regole anti-covid per la scuola è arrivato ed entrerà in vigore probabilmente già entro lunedì. Cambiano anche le norme per i tamponi di rientro in classe. Le nuove regole prevedono una radicale semplificazione e servono, come ha detto il Premier Draghi, aprendo il Consiglio dei Ministri, per limitare di molto l'uso della didattica a distanza, per permettere al numero sempre maggiore di bambini e ragazzi di andare in classe. Queste le principali misure. Non ci sarà più la DAD per i vaccinati, salvo le materne dove si va comunque tutti in DAD al quinto caso. La quarantena sarà ridotta per i non vaccinati che resteranno a casa 5 giorni e non più 10 come ora. I vaccinati staranno a casa soltanto se si ammaleranno di covid. Dalle elementari alle superiori, in caso di contagi in classe, per tutti gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale, siano guariti o esenti dalla vaccinazione, si attiverà l'autosorveglianza, cioè dovranno portare obbligatoriamente la mascherina FFP2 ma potranno continuare a stare a scuola come i professori. Per i non vaccinati invece la quarantena, in quanto contatti di positivo, scatta al secondo contagio per medi e superiori ma soltanto al quinto per le classi di scuole materne ed elementari. I non vaccinati delle scuole medi e superiori andranno in DAD al secondo contagio in classe, sempre per 5 giorni come era previsto dalle norme attuali. Cambiano però le regole per i tamponi. Chiunque in isolamento a causa di un contagio in classe, bambini delle scuole in infanzia, non vaccinati ed elementari, medi e superiori, potrà tornare a scuola alla fine dei 5 giorni con l'esito del tampone molecolare o antigenico, anche in farmacia dove è possibile farlo gratuitamente con la prescrizione del medico di base o del pediatra. Non è più necessario il certificato medico e scompare il doppio tampone T0 e T5 al quale erano costretti i bambini più piccoli. Per chi durante il periodo di autosorveglianza avesse sintomi compatibili con il covid è addirittura possibile verificare lo stato di salute con un tampone fatto a casa. In quel caso basta l'autocertificazione del genitore per rientrare in classe. Queste misure allargano molto le maglie perché come ha spiegato il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi la didattica integrata metaclasse a scuola e l'altra a casa non funziona all'elementari ma non convincono del tutto i dirigenti scolastici che hanno visto stravolgere il loro ruolo in questi anni di pandemia. Indossiamo i camici bianchi da domani mattina effettivamente avremmo dovuto farlo forse anche prima. Le dico sinceramente che il nodo c'era e rimane, è il nostro rapporto o raccordo con l'ordine dei pediatri. Si parla di tamponi autosomministrati. Bene, se questo ci si dice di accogliere noi dietro un'autocertificazione del genitore questo lo faremo ma il fatto che comunque il pediatra giustamente debba prescrivere un tampone su richiesta della famiglia liberamente questo crea dei vincoli. Quindi i pediatri ci chiedono a noi dirigenti ma questo anche col vecchio decreto, con il decreto ancora in atto, che noi dirigenti comunichiamo loro la necessità che l'alunno venga sottoposto a un tampone. Ecco, dico che siamo quell'anello intermedio fra azienda sanitaria, quindi ASP e ordine dei medici rispetto al quale, ripeto, non abbiamo il ruolo per poter svolgere questo adempimento. Eppure c'è calato dall'alto, così e come questo tanti altri. Penso e mi sento di dire che in questa pandemia l'unica categoria professionale che ha cambiato il proprio, veramente, il volto del proprio intervento professionale quotidiano, nell'ambito del proprio lavoro, siamo noi dirigenti.